Regione Toscana, il Consiglio regionale In Consiglio regionale si è iniziato a parlare di scuola e in particolare c'è stata una presa di posizione con l'approvazione di una risoluzione per il no al sovraffollamento nelle classi. Si parla anche di tamponi salivari e i gruppi si sono confrontati proprio sulla riapertura della scuola a settembre. È estate, le scuole sono appena terminate ma è giusto parlarne ora per provare a riaprire in sicurezza gli edifici scolastici con l'apertura di settembre delle scuole. Andiamo a sentire. La Quinta Commissione ha proposto all'Aula una risoluzione che impegni la Giunta a chiedere al Governo due cose fondamentali. Una è la revisione della norma regolamentare che governa il dimensionamento della scuola, cioè che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni presenti nelle classi. Perché questa norma è vecchia ormai di molti anni e l'ultimo aggiornamento risale al 2009 e chiaramente non tiene conto delle necessità di distanziamento tra gli studenti. Che invece il Covid ci ha imposto e che ha visto la didattica sospendersi quando questo distanziamento non poteva essere garantito. Allora chiediamo che venga rivista questo limite e venga abbassato in modo che le classi siano composte da meno studenti e che si possa garantire la frequenza e presenza in sicurezza. L'altro punto fondamentale nell'attesa che avvenga questa importante modifica normativa è che venga predisposto anche per quest'anno l'organico Covid, il cosiddetto organico Covid, cioè un contingente di insegnanti in più che consenta di fare più classi con minore numero di alunni per classe. Questa è una risposta di breve periodo, immediata, chiaramente implica un impegno di risorse importanti per il Ministero di Istruzione, ma crediamo che il bene e il valore della didattica in presenza siano da tutelare e da salvaguardare in ogni modo con la ripresa di settembre. Sì, bisogna lavorare fin da subito per consentire una ripartenza della scuola quando terminerà l'estate, nelle condizioni che mettano veramente i ragazzi a poter lavorare bene in presenza, fare tutte le misure, adottare tutte le misure che consentono, soprattutto ai ragazzi di stare in classi, a distanza, avere docenti, un numero congruo, ma soprattutto un atto importante, il nostro, quello che porta all'utilizzo dei tamponi salivari come grande elemento di novità. Tamponi salivari è una cosa semplicissima, basta masticare come fosse una gomma, tempo pochissimi secondi, si ha la risposta, non è invasivo, si può fare anche più volte durante la giornata, si può fare prima di entrare, prima di uscire, ed è un meccanismo semplicissimo. Io, questo atto è importante e abbiamo chiesto che la regione toscana sia apripista su questo percorso, per le scuole, per la didattica in presenza, ma anche per lo sport, per i centri educativi, per i centri di socializzazione, per la ripartenza di un quadro di normalità che quando sarà a settembre ci consentirà quindi ai ragazzi di avere delle opportunità di stare in presenza senza dover sottoporre a tamponi. Sicuramente sono delle misure che sono utili, ma dobbiamo pensare naturalmente a quello che è poi anche il benessere degli studenti all'interno delle loro aule e credo che sia necessario a questo punto cominciare a pensare anche a delle soluzioni differenti e modulari per gli spazi nel quale i ragazzi vengono accolti. Questo non soltanto nell'ottica dell'emergenza covid e del necessario distanziamento, ma anche per un benessere degli studenti e degli insegnanti all'interno delle aule e delle scuole. Bisogna dire che la regione toscana da questo punto di vista non è sicuramente ben messa perché abbiamo moltissime scuole, moltissimi istituti che non rispettano nemmeno i requisiti minimi e questo lo avevamo verificato con dei sopralluoghi che avevamo fatto negli anni scorsi. Quindi si parte da una situazione piuttosto negativa decisamente e sarà necessario quindi un'accelerazione da questo punto di vista perché non credo sia possibile accogliere di nuovo gli studenti in condizioni inadeguate con il nuovo anno scolastico. Studenti che hanno sofferto veramente molto per la didattica a distanza, la mancanza di socialità in questo periodo e il contatto diretto tra di loro e con gli insegnanti. Quindi tornare prima possibile alla didattica in presenza e al 100% e garantire anche la sicurezza deve essere una delle nostre priorità. Tra i temi all'ordine del giorno che sono stati discussi nella seduta odierna il Consiglio ha approvato la revoca della commissione di monitoraggio sui vaccini. Era una commissione che nei mesi scorsi era stata approvata dal Consiglio e in questa occasione c'è stata la revoca di questa commissione. Un po' di dibattito e di confronto in aula, un po' di polemiche da parte delle opposizioni su questa scelta di Regione Toscana ma andiamo a sentire nel dettaglio che cosa ci dicono nelle interviste i consiglieri. Intanto noi quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione ma voglio dire di tutto il Consiglio, ai lavori che erano stati programmati dalla Giunta sul piano vaccinale e che non procedevano come i cittadini si aspettavano, anzi non procedevano per niente. Sappiamo che siamo stati all'ordine del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni in ritardo degli over 80, con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare, non aveva diritto. Noi pensavamo di dare un contributo, quindi la nostra proposta andava in quel senso. È evidente che bisogna avere idee e bisogna metterci la faccia quando uno vuole dare un contributo quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile. Poi però la maggioranza, che aveva la maggioranza in quella commissione, non ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza. Sappiamo che ci sono state anche scaramucce all'interno della maggioranza, tra Italia Viva e il PD che sono note e quindi si è arenata praticamente subito. E oggi, che non è più il tempo della commissione speciale, perché la campagna vaccinale ha proseguito e quindi molti dei nodi sono stati snodati, secondo noi nemmeno benissimo, siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione d'inchiesta. Quindi convintamente abbiamo firmato la commissione d'inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato. C'è un tempo per tutto. Ieri era il tempo della commissione speciale. Ma è accaduta una cosa un po' strana. L'opposizione con otto firme può chiedere la commissione d'inchiesta. Aprile scorso, su richiesta della Lega, quale noi abbiamo dato seguito, è stata istituita invece una commissione speciale per seguire l'andamento della campagna vaccinale. Il PD ha dato subito i membri che dovevano farne parte, soltanto per ritardi legati all'opposizione. La prima commissione è stata fatta solo all'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stato l'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza. Non hanno votato l'ufficio di presidenza, quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria di un'ulteriore nomina. Anche lì abbiamo riconvocato poi l'ufficio, io sono stato nominato presidente provvisorio e anche lì ovviamente i candidati si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità. Quindi il tema è che c'è stata una contrapposizione tra Fratelli d'Italia e la Lega sulla scelta dello strumento sul quale evidentemente poi è venuto fuori questa contrapposizione che ha portato a nulla. Per quanto ci riguarda abbiamo sempre detto che ci teniamo, ci tenevamo e ci teniamo a seguire e a dare un contributo alla campagna vaccinale, tant'è che noi già dal mese di marzo tutti i giovedì audiamo l'assessore Bezzini e il direttore generale dell'assessorato per monitorare l'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale. Ci importano più risultati al di là degli strumenti. Ora è stata istituita sul richiesto dell'opposizione ma l'avrebbero potuto fare sempre perché con otto firme che sono ovviamente nella disponibilità dell'opposizione è stata istituita la commissione d'inchiesta, cosa che poteva essere fatto anche a aprile ovviamente senza il contributo della maggioranza, su questo è chiaro. Noi siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione questo ci va riconosciuto, un cambio di passo che c'è stato, attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante, abbandonato il click day, dato risposta alle categorie che più di altre avevano bisogno sono state date risposte in tempi a questo momento certi, abbiamo riscalato le gradatorie a livello nazionale siamo arrivati a vaccinare per primi ragazzi maturandi, si sono date risposte importanti gli hub sono aumentati, le imprese hanno dato risposta e credo ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato e della medicina di base quindi nel complesso la campagna di vaccinazione che va detta la verità non era iniziata bene poi sta proseguendo bene e quindi a questo punto la commissione speciale sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio La mia valutazione è che le cose cambiano con il passare del tempo quando una commissione speciale trova tutte queste difficoltà nella fase iniziale già nell'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza credo che avrebbe potuto fare ben poco per questo come Movimento 5 Stelle abbiamo capito che forse era meglio istituire e partecipare alla richiesta di una commissione di inchiesta anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinale sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali qui si tratta di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando e soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno ma per cercare di risolvere delle criticità criticità che si potrebbero ripetere in una successiva ondata pandemica Oggi in Consiglio regionale è andata in scena una farsa nel senso che il Consiglio regionale ha revocato la commissione speciale sui vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa perché fino ad oggi soltanto col voto contrario di Fratelli d'Italia nacque questa commissione non sono riusciti ad eleggere il Presidente e quindi è stata sposata da tutto il Consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione di inchiesta su la pandemia e sui vaccini perché? Perché noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi in particolar modo sulla campagna vaccinale ma in generale sulla gestione della pandemia perché ahimè la gestione della campagna vaccinale della regione toscana è stata alla ribalta del palinzesto nazionale delle tv e dei giornali italiani perché ci sono stati personaggi molto noti che in Toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino in maniera appunto con scorciatoie non molto trasparenti perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce non vogliamo processare nessuno non vogliamo processare nemmeno l'assessore Bezzini che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso non vogliamo processare nemmeno il Presidente Gianni che altrettanto si è smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi creando soltanto confusione, caos e insicurezza nei confronti dei cittadini però vogliamo capire che cos'è successo cos'è successo con i medici di famiglia che hanno dato la disponibilità a vaccinare a novembre e sono stati chiamati soltanto a marzo cos'è successo con i card giver cos'è successo con i centri vaccinali aperti e chiusi con le confusioni che succedevano al Mandela Forum piuttosto che al Creaf di Prato ecco pensiamo che su tutto questo fosse necessario accendere un focus e che lo strumento esatto fosse la commissione d'inchiesta come da noi proposta unica forza politica oggi tutto il Consiglio regionale viene a sposare la proposta dei Fratelli d'Italia dopo 90 giorni di insabbiamento della commissione speciale sono felice ed orgoglioso che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità una mia proposta condivisa con tutte le forze politiche utilizzare i rimborsi derivanti dal periodo del lockdown dei consiglieri regionali e metterli a disposizione di un grande progetto culturale contro le infiltrazioni mafiose lo abbiamo voluto con forza è un modo per aiutare i ragazzi e le ragazze a collaborare insieme a noi per ergere un muro contro le infiltrazioni mafiose un progetto culturale che vogliamo portare nelle scuole della Toscana un modo per vaccinare le ragazze e i ragazzi toscani a creare un argine contro le infiltrazioni mafiose tutto questo lo abbiamo voluto insieme a tutte le forze politiche e questo è un risultato importante e vogliamo costruire questo grande progetto insieme alle scuole e alle associazioni che operano sul territorio toscano la cifra è 75 mila euro che noi metteremo a disposizione attraverso un bando a tutte quelle associazioni che si sono occupate della lotta alla mafia alla criminalità organizzata in questi anni siamo giunti al termine di questa edizione del Consiglio regionale della Toscana vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni Regione Toscana il Consiglio regionale